Grazie Laura e salve a tutti. Quindi sono qui per parlarvi del Pilates e della terapia del movimento. Quindi qualche notizia su di me. Io insegno Pilates e terapia del movimento dal 2008. Ho uno studio a Londra, nord di Londra e sud di Londra. Ho scritto un libro che in inglese è possibile che alcuni di voi l'abbiano già letto sull'EDS di tipo ipermobile. E ho creato un sistema per poter lavorare e gestire il dolore cronico causato dall'EDS. E uso questo manuale, questo libro sui miei pazienti di Londra. Quindi ascolteremo anche le testimonianze di alcuni dei miei clienti. I pazienti vengono da me perché vogliono essere più consapevoli del loro corpo, essere in grado di esercitare un controllo migliore. pazienti come questa persona che dice di sentirsi più ottimista, di avere più energia. È probabile che già conosciate già queste sensazioni. Nicole dice che grazie all'esercizio più forza e sono più stannabile. Un'altra dice che mi sento fantastica e entro in connessione con il resto delle persone. E mi aiuta a sentirmi, a avere una maggiore connessione con la mia sindrome. Perché a volte c'è una mancanza di connessione col corpo. Sembra che sia il corpo che ti controlla e non il contrario. Quindi queste persone sentono che grazie al Pilate hanno un maggiore controllo del loro corpo. Quindi è una terapia che aiuta a diminuire il dolore e fa sì che sparisca lentamente. Già abbiamo parlato del dolore. Io lo chiamo terapia del movimento, piuttosto che Pilate. È una modalità molto personalizzata con un approccio che cambia da persona a persona. Ogni sistema o metodo che viene utilizzato si deve rivolgere ai nostri sintomi. Conosciamo, sappiamo cos'è il dolore cronico, la mancanza di stabilità, la mancanza di un controllo su movimenti, sulle lussazioni, sullussazione, la rigidità, la cefalea, i piedi piatti. Ed è per questo che dobbiamo avere una maggiore consapevolezza del corpo grazie a degli esercizi. E pensare anche a livello psicologico. La depressione e l'ansia sono molto comuni e frequenti nei pazienti affetti da EDS perché abbiamo paura di farci male. Io grazie alle ricerche ho creato un metodo che si basa sul Pilates che comprende la biodinamica che io ho studiato, la psicologia e ho messo tutto insieme. L'ho definita terapia o trattamento del movimento anziché chiamarlo solo con il nome Pilates. Non tutti gli aspetti o gli esercizi del Pilates sono uguali. Non c'è un esercizio che funzioni o che debbano fare tutti. Quest'immagine lo dice, io non posso per esempio fare questo movimento, questo esercizio. Se non sei una ginnassa o un lavoro al circo non puoi fare questo tipo di esercizio. Ma in realtà non tutti abbiamo bisogno di fare questi esercizi nella nostra vita quotidiana. Quindi perché dovremmo arrivare a fare questo esercizio e fare questo sforzo. Quindi non tutto vale per tutti. Quindi ci sono tanti tipi diversi di Pilates. Io qui ho messo una lista come per esempio il Pilate classico di ristrutturazione, il ciclo di studio, il Pilate cardiovascolare. Il Pilates si può fare in lezioni di gruppo o private con macchine o no. Quindi non bisogna pensare che una volta entrati in un centro di Pilate le persone che sono lì conoscono le DS. Quindi bisogna andare prima ai centri, prima di iscriversi ad un corso. Non sostituisce il trattamento farmacologico, ma qualcosa di più complementare. Ma non si istituisce assolutamente il trattamento farmacologico prescritto dal medico. Io uso molto la visualizzazione perché penso che le parole usate hanno molto a che vedere con il tipo dei movimenti che facciamo. Il linguaggio crea delle sensazioni e il corpo risponde alle sensazioni perché il corpo è un organo sensoriale che risponde alle sensazioni. Parlando del movimento, il movimento è costituito dalla forza, come spingere, tirare. Quindi sono parole che io uso come stringi questo o quest'altro. Io non usavo queste parole e questo mi creava molto stress e creava una serie di tipi di movimento che non erano corretti. E quindi bisogna usare queste parole perché creano una connessione tra il corpo e la mente. E quindi ho iniziato a pensare se non c'è dolore e non c'è stress. Questa è un'opinione di un cliente, di un paziente o di un cliente. Harry ha detto che questo mix di movimenti concentrati e presenza con la mente mi permettono di ascoltare il mio corpo. E grazie al buon uso del corpo mi rendo conto che adesso posso rilasciare questa tensione, ridurre questa tensione che era una cosa normale nella mia vita di tutti i giorni. Quindi noi cerchiamo questa stabilità e questo crea una tensione, è una stabilità falsa perché crea più dolore, perché c'è una maggiore tensione. E dopo pochi giorni Harry non sente più dolore perché abbiamo ridotto la tensione con la quale viveva tutti i giorni. Quindi è importante che la visualizzazione o il linguaggio che usiamo siano corretti per poter rilassare e abbassare questa tensione del corpo. Questo è una delle cose che mi dicono i clienti quando vengono da me per la prima volta. Frasi che avete sicuramente già sentito o detto voi stessi, se avete un dolore cronico, il dolore è parte della vita. Io convivo col dolore, non posso più fare questa cosa perché sento dolore. È normale sentire dolore, sono stanchissimo, non posso fare esercizio, ho paura, mi posso far male, far male alla schiena. Questo è completamente normale, è un qualcosa di cui non dobbiamo assolutamente vergognarci o che non ci deve far preoccupare. Ma tutte queste persone che sono venute da me hanno detto tutti la stessa cosa quando sono venuti all'inizio. E ora sono qui e fanno questo. Quindi anche se all'inizio avevano paura, avevano paura e avevano dolore, sono tutte persone che sono allo stesso livello. Sono tutti pazienti di IDS come coloro che sono in questa sala. Quindi bisogna iniziare un ciclo di esercizio ed è essenziale, è assolutamente necessario fare esercizio tutti i giorni. Ed è il dolore che provoca questo stress e questo affaticamente. Quando si ha un dolore cronico ci si sente molto stanchi, non si ha voglia di fare esercizi, si è stanchi, si ha voglia di rimanere in casa e riposare. Questo è una cosa totalmente normale. Ma se cadiamo in questa trappola il dolore aumenta perché avremo una forma fisica peggiore, saremo più stanchi. Rientriamo quindi in un circolo vizioso. E quando penso no, non voglio fare esercizio perché sono molto stanco e invece questo è il momento in cui devo pensare. Adesso mi alzo e faccio qualcosa. Non dico che dobbiate andare a fare la mezza maratona come quella di oggi o andare in palestra e star lì tre ore a sollevare pesi. No, bisogna iniziare a muoversi anche se si tratta di piccoli movimenti, di una passeggiata di cinque minuti, movimenti molto leggeri, tranquilli. Quindi qualsiasi movimento, anche se è piccolo, riesce a rompere questo circolo vizioso. E perché dovrei farlo? Beh, ci sono già degli studi disponibili che hanno a che vedere o che riguardano i nostri casi. Noi che abbiamo, soffriamo della sintomi di EDS o l'HDS, dobbiamo aumentare la nostra forma muscolare per poter avere una struttura di appoggio più forte delle articolazioni. Infatti gli adulti con EDS ipermobile hanno partecipato allo studio, sono migliorati grazie all'esercizio. Quindi la paura al movimento va gestita perché ha a che vedere con la paura, c'è questa paura di farsi male. Bisogna cercare di superarla e per questo penso che sia necessario fare piccoli passi perché tutto avrà un peso. Stiamo cercando di progredire, non di raggiungere la perfezione, non vogliamo fare l'esercizio in modo perfetto, ma avere un miglioramento graduale. Progredire lentamente. La cosa importante è essere consapevoli di quello che facciamo, quindi è importante fare questo primo passo a livello fisico per essere più forti, per avere questa resistenza personale. Quindi è importante fissare un ritmo logico e tutto ci dice e conferma che l'esercizio è una cosa buona per il fisico e per la mente. Prima vi chiedevo, veniva chiesto se uno deve fare yoga. Sì, lo yoga va benissimo, bisogna sapere come farlo perché è molto facile cadere nel, fare troppo esercizio, esagerare. Questo è un caso di una persona molto atletica, da ragazza era molto flessibile e sorprendeva per questo i suoi amici, ma ha iniziato poi ad avere lussazioni, soffriva di rombalgia, prendeva farmaci. Ed è arrivato a pensare che il dolore faceva parte della sua vita e non si aspettava nessun cambiamento. E dopo varie sedute, questa è la sua situazione, queste sono le sue parole. Il pirate ha cambiato la sua vita fisica, ha imparato di nuovo a muoversi, può fare esercizio fisico senza muovere, senza avere dolore, può dormire senza... che il dolore la faccia svegliare di notte e continua comunque a fare pilates perché l'aiuta a mantenere una buona forma fisica, una buona salute e un buon tono muscolare. Queste sono le parole appunto di Sara. Ho detto io, la sindrome di DS, ho sempre avuto dolori e lesioni e lavorando con Jamie sono resa conto che esiste una vita senza dolore. Grazie a lei adesso posso dormire, camminare, fare esercizio a senso dolore e quindi adesso lei può godere della sua vita, della sua famiglia e facendo esercizio. Quindi come riusciamo a raggiungere questo? In che modo siamo riusciti a fare che stare da altri, possano vivere in questo modo? Quindi non si parla soltanto di pilates ma anche della riabilitazione fisica senza dolore che è un approccio di 360 gradi che non è soltanto meccanico perché non si tratta appunto di fare un esercizio perfettamente. Funziona a livello di emozioni e di mente, a livello fisica perché come è stato detto prima il cervello è chiave quando muoviamo il nostro corpo. Quindi ci sono sei elementi che fanno parte delle basi di questa terapia che sono queste. Inizio sempre con la respirazione. Sembra assurdo ma dobbiamo imparare a respirare. Sembra assurdo dirlo perché quando uno ha un dolore e quindi è ansioso, è stressato, non respiriamo in modo, bensì tendiamo a respirare in modo superficiale. Quindi dobbiamo essere consapevoli della nostra respirazione, ricordarci che il corpo è un organo sensoriale, quindi dobbiamo essere consapevoli di questa sensorialità e quindi lavorare sull'impatto fisiologico, quindi prima respirare e poi muoversi. Quindi è importante che sia la respirazione quella che genera il movimento e questo riduce il dolore ed è una specie di meditazione a livello più basilare perché la meditazione può interrompere i segnali del dolore nel corpo. Quindi il rilassamento va insieme alla respirazione perché quando uno controlla la sua respirazione riesce a rilassarsi. La settimana scorsa una paziente dopo una seduta di rilassamento e respirazione è venuta dopo una settimana e le ho chiesto come ti senti e lei mi ha detto è stata una settimana interessante perché per la prima volta in vita mia questa è una signora di più di 60 anni mi sono data il permesso io a me stessa di rilassarmi, quindi per la prima volta questa persona sente che può rilassarsi a più di 60 anni, per la prima volta sente che può rilassarsi e si sente meglio perché non era perennemente tesa. Quindi quando uno mantiene questa tensione continua e stiamo cercando la stabilità e cerchiamo di mantenerci in piedi questo genera molto dolore e quanto più siamo rilassati più riusciamo a conciliare il sonno anche. La propriocezione, questo è un elemento molto importante e che quando si è affetti da sindrome di EDS o da disturbi dello spettro dell'epermobilità non siamo conscienti della nostra presenza nello spazio e se non siamo coscienti siamo più facilmente sottoposti al rischio di lussazioni, quindi è importante la propriocezione. Quindi suggerisco ai miei clienti di esplorare vari tipi di esercizi e movimenti, di usare i nastri, i palloni, dei pilates. Normalmente iniziamo con dei movimenti molto ridotti, con movimenti di rango corto, quindi andiamo gradualmente aumentando anche il rango dei movimenti e questo aiuta a ridurre il dolore perché stiamo aumentando la stabilità e la forza e la stabilità intorno alle articolazioni. Poi per quanto riguarda la forza delle articolazioni, io qui vedo che questa persona è appoggiata al pavimento, c'è una maggiore responsabilità, c'è un movimento che sono più fluidi. Non iniziamo comunque con questa procezione, ma iniziamo sempre sdraiati, supini perché riceviamo molte informazioni anche dal pavimento e piano piano alziamo il corpo. Io guardo sempre i piedi delle persone, penso che i piedi hanno un impatto enorme su quello che succede sul corpo, sono la base di tutto. Per esempio i piedi piatti spesso presentano un problema, soprattutto per le persone affette da ipermobilità, quindi se non abbiamo un problema strutturale l'unico motivo è il tessuto connettivo che è così danneggiato che i muscoli possano collassare, possano cadere e questo spiega i piedi piatti, ma i muscoli dei piedi si possono esercitare, possiamo quindi esercitare questa struttura del piede e quindi aiuta molto ad alleviare il dolore, a camminare meglio. Qui vediamo le spalle, questa è della parte finale del programma, questo serve anche a aumentare il nostro equilibrio ed è essenziale per tutti i giorni, quindi per pochi secondi uno si appoggia soltanto su un piede, se non mi sento comoda in questa posizione non posso camminare correttamente, quindi è importante mantenere questo equilibrio, questa forza e far sì che i piedi partecipano in tutto il movimento. Poi la postura. Non credo che si possa insegnare completamente che postura assumere, io posso dire alzatevi in piede, collocate bene le spalle, stirate il petto in fuori, questa è una postura che può essere considerata corretta, ma il corpo dopo due minuti se mantiene questa postura e se non si è praticata la tecnica Alexander assumeremo poi una postura diversa. Quindi questa postura si perfeziona quando tutti gli elementi sono coordinati e quando siamo conscienti della forza esercitata dal suolo sul nostro corpo, c'è un'integrazione di tutti gli elementi. Lavoriamo anche con il modello di bioestendibilità, che è avere un'unità funzionale completa, dove c'è un buon grado di tensione, biotensegrità. Quindi qui vediamo molto brevemente questo aspetto e vediamo i vantaggi e i benefici che sono la forza, il controllo del rango del movimento, miglioriamo il tono muscolare, meno dolori, possiamo prevenire le lesioni, possiamo migliorare la respirazione, le posture dinamiche, assumere una buona postura con la biointensità. Quindi migliorare la qualità di vita, avere una maggiore energia, maggiore vitabilità e quanto più ci si muove, tanto più aumenta la fiducia in se stessi e quindi una maggiore sensazione di benessere e di calma. Quindi è un modello integrale di 360 gradi e poi c'è anche l'appoggio degli altri, perché se uno va a una lezione, ci sono le persone che partecipano a una lezione, che creano una rete di supporto e evitare questa sensazione di isolamento quando siamo da soli. Tutto questo ti permette di fare le cose che vuoi fare, sport o lavorare nel giardino o giocare con i tuoi figli. Quindi realmente più che è un esercizio, è una forma di vita, è un modo di vivere. Mi chiedono sempre anche molto sullo stretching, sugli estiramenti, mi chiedono se gli estiramenti sono una strategia buona o meno. In alcune zone abbiamo questa rigidità e questa necessità di stirarci. Ci sono dei muscoli che sono rigidi perché devono stabilizzare gli altri che non hanno tanto tono. Quindi stirarsi è buono o no. Quando stiriamo un muscolo, desistabilizziamo il corpo che già è abbastanza desistabilizzato. Quindi io non raccomando di ricorrere molto agli estiramenti. e se ci stiriamo troppo il muscolo comunque ritornerà a essere rigido. Invece per quanto riguarda lo stiramento dinamico le cose cambiano e lo raccomando perché non c'è uno stiramento statico, bensì in movimento e questo ti permette di muovere l'aria rigida senza sforzarla. Vogliamo ottenere elasticità e non un corpo troppo stirato. Già siamo troppo flessibili. Quindi che cosa bisogna fare? Questa è la fase 1 che deve essere parte in qualsiasi programma di movimento. Quindi fare questi esercizi di catena chiusa. Quelli di sotto sono troppo aperti. Non possiamo iniziare con questi esercizi. Non abbiamo troppa fiducia con il suolo. Quindi dobbiamo iniziare con movimenti di rango, piccolo rango. Dobbiamo migliorare il nostro controllo, fare le cose semplici. Se facciamo movimenti eccessivi non va bene. Dobbiamo quindi fare le cose molto gradualmente e dobbiamo fare le cose in modo tale. Quindi le cose lentamente e poche ripetizioni. Se lavoriamo con un'altra persona possiamo toccarlo. Se abbiamo questo contatto tattile con una persona le cose miglioreranno molto più velocemente. Non possiamo andare in palestra e alzare 20 o 30 kg già dal primo giorno. Quindi dobbiamo fare le cose, cambiare anche posizioni molto lentamente perché vogliamo evitare vertigini. Non vogliamo andare ad una lezione di ginnastica che ci costringa ad alzarci, abbassarci frequentemente. E poi cercare di andare con qualcuno che ti capisca e creare questa fiducia con gli altri. Parlare chiaramente con il nostro medico curante prima di iniziare qualsiasi attività fisica per assicurarci che faremo le cose bene. Grazie per la vostra attenzione.